Molti ragazzi sono arrivati oggi alla chiesa di Santa Maria del Torione per il funerale di Manuel, il 19enne morto domenica mattina a causa delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto quando ormai era arrivata a casa, dopo una serata trascorsa insieme agli amici. Amici che oggi era spicciolata hanno raggiunto la sommità delle scale della chiesa, dove ad attendere il feretro c'erano i genitori di Manuel. Sono stati i propri genitori nella notte fra sabato e domenica a ritrovare l'auto incidentata dopo che il figlio non era rincasato. Manuel era originario della provincia di Brindisi ma abitava a Carraglie, dopo aver frequentato il corso Enjim aveva trovato lavoro come meccanico. Da domenica la bacheca Facebook del ragazzo è inondata di pensieri, messaggi, foto postate, ragazzi che ricordano i momenti passati assieme. Sabato 22 dicembre alcuni compagni hanno organizzato un concerto in Piazza Caduti per un ultimo saluto al 19enne innamorato della musica.